Treviglio si trasforma nella capitale del calcio A5 perché c'è un importante evento. Di cosa si tratta? 12 di febbraio alle ore 20.30 Italia-Portogallo è un amichevole internazionale di primissimo livello che arriva e riporta il calcio A5 azzurro in Lombardia dopo 15 anni. La nazionale poi replicherà anche il giorno dopo a Brescia, ma l'evento clou sarà sicuramente quello nel palazzetto dello sport di Treviglio in quanto ci sarà anche la diretta su RaiSport Satellite e sarà un'occasione importantissima per vedere due superstar assolute del futsal mondiale come Ricardigno che numero 10 è sicuramente uno dei più grandi nomi, un po' il Messi del calcio A5 e poi anche Stefano Mammarella che è il portierone azzurro recentemente vincitore per il secondo anno consecutivo dei Futsal Award come miglior portiere del mondo. Grazie 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 Grazie